Mi credereste se vi dicessi che esiste un'auto che può fare 1.600 chilometri? È completamente elettrica e costa relativamente poco. Ecco, quest'auto esiste già e si chiama Aptera Roadster. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Prima di cominciare vi ricordo di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale che mi aiuterebbe davvero molto con l'algoritmo di YouTube. Aptera è stata fondata nel 2006 ma in seguito a dei problemi finanziari e delle mancanze di fondi nel 2011 ha chiuso i battenti. In seguito nel 2019 sono riusciti a trovare dei fondi per riaprire l'azienda e progettare e iniziare la produzione del loro primo veicolo elettrico. Attualmente stanno prendendo i preordini per appunto l'Aptera Roadster. Verrà venduta con diverse dimensioni di batterie ovviamente, partendo da quella più bassa che è un 25 kilowatt con 400 chilometri di autonomia a circa 26.000 dollari. Fino ad arrivare a un 100 kilowatt con 1.600 chilometri di autonomia ad un prezzo di 45.000 dollari. Se poi si vogliono aggiungere le celle solari sopra il tetto, il bagagliaio e il frontale dell'auto, si arriva a circa 49.000 dollari. Ora, parliamo un po' dell'elefante nella stanza. L'aspetto della macchina. Il fatto che abbia tre ruote, che abbia solo due posti più uno, ovviamente, possono un po' portare la gente a non farsi piacere questa tipologia di auto. Sicuramente è un design polarizzante, cioè o ti piace o lo odi completamente. E capisco che per molte persone questa tipologia di design possa essere un po' troppo, diciamo. Ma comunque penso che un range del genere possa attirare molta gente. Ovviamente in base alle necessità che ci sono per ognuno. Però quello che viene offerto è un range che è tre volte quello di una Model S Long Range. Al prezzo della metà di una macchina del genere. Quindi già le carte si mettono un po' in tavola e si capisce un po' meglio di cosa stiamo parlando. All'inizio del video vi ho detto che quest'auto teoricamente non ha bisogno di essere ricaricata. Ed infatti grazie alle celle solari poste sulla superficie dell'auto è in grado di ricaricare più o meno tra i 30 e i 50 km d'autonomia. Solamente restando parcheggiata. Perciò parcheggi la macchina e torni con ancora più autonomia. Sono abbastanza certo che una persona comune difficilmente superi i 50 km al giorno. Ma se anche fosse un'autonomia di 1600 km ti permetterebbe di fare un viaggio andata e ritorno da Milano a Roma senza doversi fermare neanche ad una colonnina. Questo range è dovuto sicuramente a diversi fattori. Uno dei principali è sicuramente il CX o coefficiente di resistenza aerodinamica che appunto è di 0.13. Per fare un esempio la Model S sempre è uno 0.23. Quindi è praticamente la metà di una Model S. E ovviamente questo range è dovuto anche alla riduzione di peso e anche dalla mancanza di una ruota. Tre ruote ovviamente una se la togli pesa molto di meno. Solo due posti e comunque anche ad un utilizzo intensivo di materiali abbastanza innovativi e alla stampa 3D che risulta meno pesante e oltretutto anche più resistente. Senza contare ovviamente anche la riduzione dei costi. perché essendo stampato in 3D il prodotto può essere prodotto, scusate il gioco di parole, in casa tagliando di molto i costi di produzione. Per quanto riguarda la velocità massima l'Aptera Roadster non stupisce particolarmente arrivando a 170 km orari. Autolimitati. Penso che un po' più veloce prenderebbe il volo. Invece quando si parla comunque di sprint 0 a 100 si sta parlando di uno sprint di 3.5 secondi. Essendo una macchina elettrica e a presa diretta ovviamente la potenza arriva subito. Ma ovviamente vedendo una macchina a tre ruote il tuo cervello non dice ah è veloce come Porsche, come Ferrari. Ovviamente il tuo cervello è abituato a un modello di tre ruote che va piano ed è utilizzato in certe situazioni. Per quanto riguarda la sicurezza, sull'Aptera Roadster possiamo trovare una guida autonoma di livello 2 ed una cabina rinforzata utilizzando anche tecniche dei materiali che vengono direttamente dalla Formula 1, oltre ovviamente agli airbag di ultimissima generazione. L'Aptera Roadster ha già ricevuto più di 100 milioni di dollari in preordini e dovrebbe essere lanciata nel mercato entro quest'anno 2021. Come progetti futuri hanno in mente di lanciare un'auto a quattro porte, un po' più convenzionale ovviamente e in seguito espandersi nel mondo delle consegne come furgoni o camion che ovviamente hanno un chilometraggio giornaliero molto più avanzato e con le loro tecniche magari riuscirebbero anche a sviluppare qualcosa di molto competitivo. Sono abbastanza tranquillo che Aptera riuscirà a portare sul mercato i propri prodotti anche se magari per una piccola nicchia all'inizio, soprattutto perché hanno iniziato una collaborazione con Sandy Moreau e con la Moreau & Associated. Questa compagnia si concentra per lo più nel tagliare dei costi dove magari non c'è bisogno o comunque nella costruzione di un'auto e non solo, nel modo più efficiente e veloce possibile. Sandy Moreau oltretutto è un po' una leggenda nel settore automobilistico, soprattutto americano. Ha lavorato per decenni anche per grosse compagnie come Ford o General Motors e con la Moreau & Associated ha contribuito a creare la i3 della BMW, l'FUV di Archimoto o anche a dare consigli direttamente a Tesla per migliorare dei prodotti che comunque, come sappiamo, sono già di ottima fattura. In conclusione per me Aptera è un'azienda su cui tenere gli occhi puntati perché alla fine dei conti hanno un grande range, grande sicurezza nella loro auto. Sono oltretutto anche veloci, quindi sono anche buone da guidare e anche molto più spaziose di quello che uno può pensare. Senza contare che ovviamente, essendo un'auto elettrica, ha bisogno anche di molta meno manutenzione. Perciò sì, spero che Aptera questa volta ce la faccia del tutto e che abbia un impatto importante nel mondo dell'auto elettrica e non solo. Detto questo, fatemi sapere con un commento qua sotto quanti chilometri fate al giorno voi e se considerando i 1600 chilometri di autonomia dell'Aptera Roadster sarebbe un'auto che sareste disposti a comprare considerato il fatto che non dovreste mai ricaricarla. Vi ringrazio davvero tanto, non scordatevi di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!